Qui al SAE 2016 presentiamo un nuovo prodotto che abbiamo chiamato Videoconference Wall, che è un esempio di integrazione di sistemi per la comunicazione per sale e riunioni. All'interno del Videoconference Wall troviamo, sotto diversi allestimenti, monitor di grandi dimensioni, è possibile integrare una telecamera, un PC e tutte le tecnologie necessarie per la comunicazione come microfoni e diffusori acustici. La gamma è prevista in quattro modelli, con monitor singolo, con monitor doppio, con monitor triplo oppure con schermo e due monitor in varie dimensioni. In uno spazio ridottissimo riusciamo a integrare tutte le tecnologie necessarie per la videocomunicazione. Si può partire quindi con un allestimento del genere, velocemente e con un sistema, diciamo così, pronto per l'uso per fare videoconferenza. Il costo orientativo del kit completo installato con tutti gli applicativi, microfoni radio, eccetera, è di circa 15.000 euro.